Prima seduta del Consiglio Provinciale a Palazzo Ducale per il neopresidente della provincia di Lucca, Marcello Pierucci, eletto alle elezioni dello scorso 29 settembre, che lo vedeva opposto al candidato di centrodestra Mario Pardini. Un appuntamento che è servito anche per nominare Andrea Carrari, sindaco di Piazza Alserchio, vicepresidente della provincia di Lucca. Durante questa prima seduta c'è stata la convalida degli eletti, prima del giuramento dello stesso Pierucci. Nel riservarsi di delineare i punti programmatici dell'azione di governo nella prossima riunione del Consiglio, il Presidente ha sottolineato di voler continuare e incrementare i cospicui investimenti già in atto sul fronte delle strade di competenza e delle scuole. La giornata è stata introdotta da una breve esibizione di un gruppo di studenti del Conservatorio Boccherini di Lucca, che hanno eseguito Lino d'Italia e alcuni brani di Giacomo Puccini. All'interno del Consiglio provinciale siedono in totale 12 consiglieri più il Presidente, che rimarranno in carica per due anni, mentre il mandato del Presidente è di quattro anni.